Si traccia la perpendicolare nel punto medio e si trova 1 Con apertura di compasso 1A si centra in 1 e si descrive una semicirconferenza Essa interseca la perpendicolare nel punto 2 Con apertura 2A si centra in 2 e si descrive una circonferenza quasi completa Essa interseca la perpendicolare nel punto O Con apertura OA si centra in O e si descrive una circonferenza quasi completa Con apertura AB si centra in B e si trova il punto C Analogamente da C si trova D e da D si trova E Ripetendo la procedura a partire da A si trovano i punti H, G e F Gli 8 punti sono i vertici dell'ottagono Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!